Ma non si può insegnare ai giovani la Shoah se tutti noi nel nostro ambito istituzionale e non istituzionale non ci impegniamo a contrastare chi dagli stadi di calcio al web alimenta l'odio antisemita e in generale ogni altra forma di odio e discriminazione basata sull'ettenia, sulla religione, sull'orientamento sessuale, sull'appartenenza a particolari gruppi sociali. Se tutti noi non reagiamo ad ogni forma di negazionismo, inclusa quella di chi sminuisce la portata delle leggi razziali o il ruolo del regime fascista nell'Olocausto. Voglio, permettetemi, stigmatizzare un episodio accaduto in questi giorni per ricordare che l'utilizzo di falsi storici antisemiti ha già fatto danni considerevoli al popolo ebraico nella nostra storia e per questo va condannato con forza e vigore e io lo condanno con forza e con vigore. Il Parlamento negli ultimi anni ha fatto passi importanti. Ricordo in particolare l'approvazione del 2016 delle leggi che introduce un aggravante per reati previsti dalla legge Mancino quando questi si fondano in tutto e in parte sulla negazione dello Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. E sottolineo che nella scorsa legislatura sono stati desecretati e messi a disposizione del pubblico attraverso il sito dell'archivio storico della Camera moltissimi documenti occultati per decenni nel cosiddetto armadio della vergogna ed acquisiti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle stragi nazifasciste in Italia.